Da pochi giorni è uscito il nuovo libro del CEO di Netflix, Reed Hastings, intitolato L'unica regola è che non ci sono regole. Un libro che spiega nel dettaglio il modello di business di Netflix, l'azienda statunitense che ha rivoluzionato il mondo dell'intrattenimento. Io ho appena finito di leggere questo libro e in questo video vedremo quali sono i segreti che hanno trasformato Netflix da un'azienda che affittava DVD via posta ad un colosso dell'intrattenimento con oltre 200.000 abbonati in tutto il mondo. Ma soprattutto le azioni di Netflix sono da comprare? L'unica regola è che non ci sono regole. Oltre ad essere il titolo del libro, questo è il mantra che caratterizza l'organizzazione di Netflix. Il libro parte spiegando che il modello lavorativo delle otto ore adottato da praticamente la maggior parte delle aziende di tutto il mondo è un modello obsoleto in quanto retaggio di un'epoca in cui i lavoratori svolgevano compiti che oggi sono stati sostituiti dalle macchine. In Netflix per esempio non ci sono vacanze. No, aspettate, non significa che i dipendenti Netflix non possano andare in vacanza, è proprio il contrario. Possono andare in vacanza quanto gli pare senza che ci siano particolari vincoli o controlli. Spesso capita che un collaboratore lavori la sera o risponda alle mail nel weekend. Visto che nessuno controlla quante ore in più un collaboratore lavora, perché controllare quante vacanze fa? In Netflix non ci sono politiche relative alle spese aziendali. L'azienda si fonda sul principio Act in Netflix Interest, ovvero se lo stai facendo per il bene e negli interessi di Netflix puoi spendere quanto ti pare. Un altro punto saliente di questa organizzazione è che ogni collaboratore può, anzi deve, dire la sua opinione, anche qualora vada contro quella di un suo superiore. È tra i vari compiti dei manager e dei team leader stimolare questa cultura, insegnando ai collaboratori a comunicare tra di loro senza urtare la sensibilità degli altri. Una pratica, questa della critica costruttiva, che si riassume in una vera e propria lezione per i manager. In Netflix il compito di un manager è quello di ispirare, non guidare. Questo tipo di approccio, se utilizzato bene, secondo Hastings crea un ambiente positivo, un ambiente creativo, che automaticamente diventa una cucina di nuove idee e progetti. Un altro punto essenziale nella cultura Netflix è che non devono esserci segreti. Tutti i dati aziendali, dal numero di iscritti in tempo reale ai progetti futuri, sono a disposizione di ognuno dei 9.000 dipendenti. Un qualcosa che farebbe rabbrividire qualsiasi multinazionale che vedrebbe il loro vantaggio competitivo rispetto ai competitor compromesso. Anche le riunioni non vengono mai fatte a porte chiuse. Secondo Hastings, se lavori per Netflix, devi sapere tutto di Netflix. Solo questo può farti prendere le decisioni migliori per l'azienda. Sempre in linea con la regola, fai tutto quello che vuoi, ma che sia fatto negli interessi di Netflix. Tutti questi punti hanno contribuito a far sì che Netflix lavori con alcune tra delle vere e proprie rock star della Silicon Valley. I migliori creativi, i migliori informatici, i migliori project manager, però non sono solo interessati ai valori aziendali. Sono interessati ovviamente anche ai soldi. Questo è il motivo per cui Netflix ha una politica molto chiara sugli stipendi. Chi lavora in Netflix deve guadagnare di più che da qualsiasi altro concorrente. Netflix, pensate, incoraggia addirittura i suoi collaboratori a fare anche dei colloqui con i concorrenti per capire quanto verrebbero pagati da loro e incoraggia a riportare al proprio manager, al proprio responsabile queste cifre che provvederà immediatamente ad aggiornare il salario del collaboratore. Come ogni grande azienda di successo, anche Netflix ha successo non solo perché offre un prodotto di altissima qualità, ma soprattutto perché azionisti e collaboratori si rispecchiano nel messaggio, negli obiettivi e nello scopo di questa società. Oggi in borsa Netflix vale 200 milioni di dollari circa, ma sono convinto che non passeranno tanti anni prima di vedere questa azienda capitalizzare in borsa oltre un miliardo di dollari, come è successo per Amazon e per Apple. La visione del suo CEO e la cultura aziendale che ha costruito mi hanno convinto a diventare azionista. Dopo aver letto questo libro ho deciso di inserire Netflix nella lista delle mie azioni preferite che tengo d'occhio tutti i giorni e comprerò il titolo ogni qual volta rispetterà i criteri che ho spiegato nel mio corso Opportunity 2020 speciale azioni. Se volete informazioni sul corso vi lascio il link in descrizione. Vi ricordo che se volete fare trading su Netflix potete usare la piattaforma del nostro broker partner Kimura Trading. Su Netflix e su tutte le altre azioni americane è possibile fare trading con missioni zero. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella così da essere informati ogni volta che esce un nuovo video e se volete approfondire questo argomento o tanti altri argomenti collegati ad economia, finanza e trading online vi aspetto tutti i lunedì alle ore 18 al webinar del lunedì, che è un appuntamento gratuito dove appunto facciamo una chiacchierata di un 40 minuti o un'oretta proprio relativa a tutti questi temi. Vi aspetto!